Sono Maria Cristina De Rosa, ho 23 anni e ho avuto l'opportunità di frequentare la prima edizione del Master SEMA. SEMA sicuramente mi ha permesso non solo di crescere da un punto di vista formativo, perché sono venuta a contatto in maniera dirompente con il mondo dell'editoria, che fino ad allora conoscevo da semplice lettrice, ma anche di crescere da un punto di vista relazionale, perché sono stati sei mesi di continuo confronto non solo tra noi ragazzi che appunto seguivamo il Master, ma anche con i docenti che ci hanno seguito giorno per giorno e gli ospiti che sono venuti a trovarci e che si sono alternati non solo per il modulo di editoria, ma anche per il modulo di narrativa e drammaturgia. Sicuramente sono anche super entusiasta per quella che sarà la mia nuova avventura, che prenderà vita il 7 di gennaio presso l'Agenzia Letteraria Grandi Associati a Milano e che appunto andrà a costituire quello che sarà la parte finale del mio percorso a SEMA in quanto tirocinio. Sicuramente da questa nuova avventura mi aspetto di crescere ancora e soprattutto entrare veramente in contatto e toccare con mano quelle che sono state anche le difficoltà o i successi che abbiamo analizzato e sui quali ci siamo sempre confrontati anche in classe. Quindi auguro comunque ai nuovi iscritti del Master un mega in bocca al lupo e sicuramente da studentessa e da futura lavoratrice consiglio un percorso formativo come quello di SEMA che esiste grazie alla linea scritta e ovviamente all'Università Solorsola bene in casa.